vediamo se con questo arnese non c'ho più il tremolio alle mani semplice le mani ce l'ho qua davanti è un treppiede con caricato è un aggeggio su quale ci ho messo la macchina fotografica per il momento poi bisogna che vada a cercare qualcosa di alternativo per uno smartphone così io evito il tremolio posso tranquillamente dialogare posso vedere senza dover rincorrere questo tremolio che fino a qualche tempo fa era diciamo curabile cioè in poche parole veniva raddrizzato tramite i video su youtube ora l'hanno interrotto per cui a questo punto non ci posso fare lui comunque intanto questo è un video l'ho ripreso stop stop